Oggi andiamo a vedere una lezione che si intitola Gesù Cristo, 23 febbraio 1968. Anche se solo pochi stanno insegnando questo meraviglioso principio al momento attuale, molti altri seguiranno. E poiché il mondo cristiano crede in un uomo, questa domanda sarà posta più e più volte. Non credi che uno chiamato Gesù Cristo abbia camminato sulla terra? Spero di essere in grado di chiarire questo punto per voi stasera. Ascoltate queste parole delle scritture. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La tua parola è verità. Parlando di Gesù Cristo, il suo nome sarà chiamato parola di Dio. Qui vediamo che ha un nome, quindi è una persona, oppure è la parola. La verità che rende liberi. Confessando che è venuto nel mondo per fare la volontà di suo padre, nel sesto capitolo del libro di Giovanni fa questa dichiarazione. Questa è la volontà del padre mio, che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna. Ora, non c'è una verità o una bugia che non abbia un uomo come il suo agente, poiché ci vuole un uomo per esprimere o una bugia o una verità. E Gesù Cristo è chiamato la verità. Quindi, quando siete chiamati a rispondere alla domanda, non credi che un uomo unico sia nato nel 4 avanti Cristo e si chiami Gesù Cristo? Rispondi in questo modo. Gesù Cristo non è un uomo, ma il piano di salvezza di Dio. Una delle affermazioni più tristi e allo stesso tempo commoventi della Bibbia è registrata nel libro di Samuele. Il figlio di Davide, Absalom, si rivoltò contro di lui e cercò di impadronersi del regno. Durante tutta la battaglia, però, Davide si chiese più e più volte «Come sta il ragazzo, Absalom?» Quando riceve la notizia della morte di Absalom, sale nella camera sopra la porta di Gerusalemme e piange, dice piangendo «Oh, Absalom, figlio mio, figlio mio, vorrei essere morto io al posto tuo». «Oh, Absalom, figlio mio, figlio mio». Questa è una prefigurazione, in modo non del tutto conclusivo o immediatamente evidente della storia del Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento troviamo che Dio Padre fa quello che Davide desiderava fare. Desiderava dare la sua vita per restaurare suo figlio, ma non poteva farlo perché solo Dio può dare la vita per salvare suo figlio. Parlando all'umanità, Blake mise queste parole nella bocca di Gesù. «Non temere, se io non muoio, tu non puoi vivere, ma se io muoio, risorgerò e tu con me». Ameresti tu uno che non sia mai morto per te, o moriresti per uno che non fosse mai morto per te? E se Dio non morisse per l'uomo e non si desse eternamente per l'uomo, l'uomo non potrebbe esistere. Dio è morto svuotandosi dalla sua divinità. Non fa finta di essere morto, ma diventa in realtà il vero alito di vita di ogni bambino nato da donna. Ora, camminando nell'oblio dell'uomo, Dio ha preparato un piano per il suo ritorno, un piano per cui tutti sono redenti. Questo piano di redenzione è Gesù Cristo, ma poiché è personificato, l'uomo ha preso il veicolo che trasmetteva l'istruzione per l'istruzione e la gente che esprimeva la grande verità per la verità espressa. Se la verità deve essere espressa, ci vuole un singolo uomo per esprimerla. Pertanto, quando la storia della redenzione si svolge in un uomo, egli racconta la propria esperienza. Ora ci viene detto, chiunque vede e crede nel Figlio ha la vita eterna. La parola vedere e conoscere sono le stesse, sia in ebraico che in greco. Quindi se stasera dipingo un quadro a parole del piano di salvezza, vi sto mostrando il Figlio di Dio. Non ne consegue necessariamente che tu capisca quello che dico e mi creda. Quindi l'affermazione è fatta. A chiunque vede il Figlio e crede, stasera spero di poterlo dire così chiaramente che tutti possono seguire e capire quello che dico e accettarlo. Gesù Cristo non è un uomo, non è una persona, ma è il piano di redenzione di Dio che deve essere scoperto e compreso. Per entrare in questo mondo si deve indossare un corpo di carne e sangue. Tuttavia, ci viene detto che la carne e il sangue non possono entrare nel Regno dei Cieli. Ci vuole un corpo spirituale per entrare in quel Regno e le mie parole sono Spirito. Se vi racconto una storia che molti in questo pubblico hanno sperimentato e voi l'accettate, anche voi sperimenterete la verità che vi renderà liberi. Nessun uomo può rendervi liberi. Quest'uomo chiamato Neville è semplicemente un agente che esprime la verità. Non è sufficiente che voi lo capiate. Dovete credere, non in Neville, ma nella verità che sta esprimendo da questa piattaforma e dai suoi libri. Se io mento e voi credete a quello che dico, allora non potete provarlo e rimarrete schiavi. Vi sto dicendo quello che ho sperimentato. Quindi non posso mentire. Gesù Cristo, la storia di salvezza di Dio, si è compiuta in me. Ho sperimentato la nascita, la scoperta di Dio che è Davide, la scissione dal Tempio che è il proprio corpo, l'ascesa del figlio dell'uomo in cielo e la discesa della colomba. La maggioranza della gente del mondo non accetterà la mia storia perché vogliono una persona all'esterno come loro salvatore personale. Stasera molti che stanno affrontando la loro inevitabile partenza da questo mondo sperano di incontrare quello che chiamano il loro salvatore, ma il loro salvatore è un piano di salvezza che è Dio stesso. Quando ti fanno la domanda e insistono per una risposta, sì o no, chiedi loro di ragionare con voi in questo mondo. Credi nelle scritture? Andiamo all'undicesimo capitolo di Matteo e leggiamo la storia di Giovanni il Battista. È detto di lui, tra i nati da donna nessuno è più grande di Giovanni il Battista, ma l'ultimo del regno dei cieli è più grande di lui. Ora lasciate che ti chieda, Gesù Cristo è un uomo di carne e sangue? Allora non è più grande di Giovanni il Battista, non ci credi? Bene, è stato Gesù Cristo che ha fatto la dichiarazione. Nessuno nato da donna è più grande di Giovanni il Battista. Se insiste che Gesù Cristo è nato da una donna e quindi in questo mondo di carne e sangue, allora non è più grande di Giovanni il Battista. Infatti, se dice che Gesù Cristo è un uomo di carne e sangue e il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni, allora non è anche più grande di Gesù Cristo. Il piano di salvezza di Dio è un dramma interamente soprannaturale e non ha niente a che vedere con nessun bambino che è venuto o viene dal grembo di una donna. La sua storia si svolge in un ambito completamente diverso perché l'uomo esce dal proprio cranio. Questa è la nascita dall'alto. C'è un meraviglioso nascondimento di Cristo nei capitoli 6, 8, 18 e 19 del Vangelo di Giovanni. Non è questo il figlio di Giuseppe? Come può ora dire sono disceso dal cielo? È il figlio di Giuseppe agli occhi di centinaia di milioni di persone ma Gesù non fa questa confessione, piuttosto vi dice sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e il cielo è dentro. Come può Gesù essere mandato dal cielo ed essere figlio di Giuseppe se Giuseppe è un uomo mortale? Nell'ottavo capitolo di Giovanni gli chiedono chi è tuo padre? Ed egli rispose voi non conoscete né me né il padre mio perché se conosceste me conoscereste anche il padre mio. In altre parole se tu conosci Cristo nel vero senso della parola non lo chiederesti perché sapresti che è lui stesso lo sapresti mio padre è colui che voi chiamate Dio io conosco mio padre e tu non lo conosci il tuo Dio troverai il nascondimento di Cristo in tutto il libro di Giovanni e sebbene ci voglia un uomo per esprimere il piano di Dio Cristo non può essere visto da occhi mortali egli può essere conosciuto e sperimentato solo come piano di salvezza uno che esprimeva la verità stava davanti a Pilato che disse chi sei e da dove vieni? e quando non rispose Pilato disse non sai che ho il potere di liberarti o di crocefiggerti? allora la verità rispose tu non hai il potere su di me se non ti è dato dall'alto questa parola tradotta come dall'alto e Anotem e nel terzo capitolo di Giovanni la troviamo in dovete nascere dall'alto il suo mondo non è questo mondo perché non ha detto io non sono di questo mondo il dramma si svolge in un mondo completamente diverso e ciò che condivido con voi e ciò che ho sperimentato in quell'altro mondo ora permettetemi di condividere un'esperienza che è stata recentemente condivisa con me la signora scrive domenica sera ho sentito la tua presenza così forte che mi sono seduta aspettandomi di vederti invece ho visto solo luci che si accendevano e si spegnevano come lucciole poi sono andata a letto e questo è il mio sogno stavo guardando il mio registratore in funzione osservando il nastro muoversi da una bobina all'altra quando mi sono ricordato che se avesse arrestato l'attività che osservavo nella mia mente si sarebbe bloccata immediatamente ho fermato l'attività nella mia immaginazione e la bobina non si è più mossa ho notato che nell'istante in cui lo facevo qualcosa in me si apriva e si espandeva ma non potevo riavviare la bobina finché non contraevo i sensi questo mi affascinava così l'ho fatto diverse volte ogni volta rendendomi conto che non potevo iniziare l'azione nel mio stato aperto ed espanso solo quando avevo contratto i sensi ancora una volta la bobina partiva e si muoveva apparentemente indipendentemente dalla mia percezione di essa e quando mi sono svegliata ero delusa perché non avevo fermato e fatto partire le persone ma poi mi sono resa conto del significato, del simbolismo, del sogno e sono stata di nuovo euforica c'è solo Dio Dio nel stato eterno dell'esistenza Dio in processione, Dio in ritorno la sua esperienza della notte è una prefigurazione del suo ritorno all'unione con se stessa venendo nel mondo ha fatto la sua parte e ora sta assaggiando il potere che ognuno esercita nella nuova era un potere completamente sconosciuto all'uomo l'uomo è spaventato dai suoi piccoli congeni e pensa che possono fare esplodere l'universo ma sono solo piccoli petardi forse avete visto in Los Angeles Times di ieri dove gli astrofisici del Caltech affermano che ci sono 100 miliardi di galassie nel nostro universo e che ogni galassia contiene 100 miliardi di stelle eppure non riescono a trovare nulla di simile alla nostra piccola terra l'unica cosa nell'universo che potrebbe cullare questo esperimento biologico chiamato uomo è proprio qui nel nostro piccolo pianeta se vi soffermate su questo pensiero dovete sentirvi così bene l'intero universo è stato creato da un orgasmo di Dio per produrre questo piccolo sistema avete mai visto l'orgasmo di un uomo al microscopio? miliardi di organismi vivi sono lì per tentare la somiglianza con l'uomo e solo uno ha successo qui è l'orgasmo di Dio e viene fuori un sistema che può cullare il suo esperimento di fare l'uomo a sua immagine non c'è niente che possa farlo Dio doveva morire perché l'uomo potesse vivere sapendo se io muoio risorgerò e tu con me perché se Dio non morisse per l'uomo e si desse eternamente per l'uomo l'uomo non potrebbe esistere quando Dio si è fatto un uomo ha portato con sé il suo piano di salvezza chiamato Gesù Cristo le chiese lo hanno organizzato e personificato hanno dipinto immagini di lui e le hanno messe sul muro ma questo non è Gesù Cristo Gesù Cristo è il piano eterno di salvezza di Dio che è espresso da un uomo nessuno conosce gli autori dei Vangeli Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono nomi anonimi di uomini che hanno raccontato le loro esperienze personificando il figlio lo chiamano Gesù Cristo ma l'uomo non sapendo questo non può discernere tra lo stato e il suo occupante così prende lo stato e lo adora Gesù Cristo è il piano di salvezza di Dio che si svolge in un uomo ora voi continuerete quando io non ci sarò più e vi verrà chiesto di lui quando vi chiederanno se credete che un uomo chiamato Gesù Cristo sia nato da Maria sia vissuto e sia stato crocifisso su una croce di legno ditte loro la vera storia della salvezza potete perché sarete testimoni sarete nati dall'alto avrete trovato Davide che vi chiama padre sarete stati divisi in due sarete saliti in cielo e sarete stati testimoni della discesa della colomba quando avrete avuto tutte queste esperienze sarete testimoni della verità della parola di Dio come testimoni voi siete il futuro dell'albero della vita su quale Gesù Cristo come piano eterno di Dio è stato crocifisso gli uomini cercano quell'albero nel tempo e nello spazio ma Blake ci dice gli dei della terra e del mare hanno cercato attraverso la natura quell'albero ma la loro ricerca è tutta vana ne cresce uno nel cervello umano è lì che Gesù Cristo cioè il piano di salvezza di Dio è incastonato innestato lì cresce e derompe questi grandi eventi fino al culmine che è la discesa della colomba allora l'uomo in cui l'eruzione ha avuto luogo si soffermerà a raccontare la sua esperienza e a incoraggiare i suoi fratelli poi partirà non per essere restaurato in questo mondo terrestre ma per entrare in quell'epoca chiamata Regno dei Cieli dove eserciterà un potere più grande del sogno più sfrenato dell'uomo mortale quando il piano di salvezza di Dio è completato sei tornato a te stesso questo è il ricongiungimento divino allora saprai per esperienza sono uscito dalla coscienza di essere il padre sono venuto nel mondo essendo consapevole della sua esistenza di nuovo lascio il mondo e ritorno alla consapevolezza di essere il padre ricorda c'è solo Dio padre questo mondo non è un qualche incidente ma un piano per creare ed espandere il potere creativo di Dio non c'è il limite alla sua espansione solo un limite alla contrazione l'uomo è quel limite assumendo il limite della contrazione e l'opacità che è l'uomo Dio si dispiega nell'uomo per conoscere la traslucenza e l'espansione illimitate Gesù Cristo è il piano di salvezza di Dio quando puoi vedere questo chiaramente nell'occhio della tua mente stai vedendo il figlio di Dio perché il piano di Dio e il suo figlio è chiamato Gesù Cristo se rifiuti questo non credi in te stesso l'intero Vangelo di Giovanni parla della fede e della mancanza di fede in se stessi Giovanni ti racconta una storia stai esprimendo la verità e la personifica come un uomo ed è la verità che dovresti adorare non l'uomo Giovanni vi esorta a cercare la verità perché la verità vi renderà liberi se accetti la parola di Dio che dimora in te conoscerai la sua verità e sarai liberato ma se dici voglio questa saggezza ma se potessi scoprire come fare i milioni rimanderei questo per un po' voglio prima i milioni ti dico oh stolto la tua anima è richiesta da te stasera domani ti metterò in una sfera dove avrai i tuoi milioni ma dovrai lavorare per questo non pensare che siccome ora stai recitando una parte nobile non puoi passare a una ignobile proprio come un attore puoi recitare la parte di un re sul palcoscenico del tempo e dello spazio stasera e domani essere scritturato nel ruolo di un clown Dio agisce ed è solo negli esseri esistenti o negli uomini noi veniamo ingaggiati in un ruolo dopo l'altro fino a quando l'opera che ci siamo prefissati di fare completata in noi e indipendentemente da quello che facciamo ora o dalla nostra posizione sociale o intellettuale quando ce ne andiamo da qui siamo gettati nei nostri ruoli appropriati questo lo so per esperienza tutto è fatto e tutto è perfetto Dio ha pianificato tutto come è avvenuto e come sarà consumato quindi voi che state insegnando ora e quelli che seguiranno segnatevi le mie parole vi verrà chiesto non credi in Gesù Cristo come un uomo la cui madre era Maria? questa è la domanda che mi è stata posta durante tutti i miei anni di insegnamento poco prima che chiudessi lo scorso dicembre un uomo se la prese con me perché le mie parole erano in conflitto con il suo concetto di Gesù Cristo credeva a qualcuno di carne e sangue qualcuno all'esterno e non poteva rinunciare a quel concetto non è più tornato ma questo è l'adempimento del sesto capitolo di Giovanni perché quando il popolo udì le sue parole disse queste sono parole dure e se ne andarono per non camminare mai più con lui io sto solo adempiendo le scritture dico la verità come l'ho sperimentato e ci saranno quelli come questo Signore che non cammineranno più con me non può camminare con me credendo in un Gesù Cristo fisico quando il mio concetto di lui è la personificazione della verità del piano di salvezza di Dio questa verità deve essere espressa dall'uomo quindi un uomo viene e la esprime bisogna imparare a lasciare in pace l'uomo e ad aggrapparsi alla verità perché allora la verità si innesterà su di te e si dispiegherà in te allora saprai chi è veramente Gesù Cristo perché quando si dispiega in te tutto ciò che viene detto di lui viene sperimentato da te e quando leggi che Davide chiamava Dio padre mio e Davide chiama te padre allora tu non sei Dio se si dice che il corpo di Dio fu spaccato da cima a fondo e ciò accade a te non sei forse Dio mentre questi eventi accadono l'intera Bibbia si aprirà e vedrete la saggezza di Bley quando disse fiumi montagne città villaggi siete tutti voi perché nell'eternità tutti sono uomini la scrittura riporta che il monte degli olivi fu diviso ma tu saprai che fu il tuo stesso corpo a essere diviso scoprirete di essere il fiume Giordano perché non c'è altro che l'uomo quando entrerete nella consapevolezza di essere le montagne i villaggi e le città camminerete nei cieli e sulla terra perché tutto ciò che vedete anche se appare fuori e dentro di voi nella vostra immaginazione di cui questo mondo della mortalità non è che un'ombra tutte le montagne delle scritture sono dentro di voi così come le città e i villaggi indipendentemente dai loro nomi voi diventate la Gerusalemme la sposa che scende all'alba essendo Dio individualizzato personificherai il piano di salvezza di Dio chiamato Gesù Cristo perché non c'è altro che l'uomo e l'uomo è Dio ora entriamo nel silenzio io mi fermo qui e vi aspetto domani grazie a tutti voi è una splendida giornata grazie